E' di 9 persone arrestate il bilancio di un'operazione eseguita all'alba di questa mattina a Bari dalla Polizia di Stato. In manette sono finiti alcuni affiliati al clan Parisi Palermiti, ritenuti responsabili a vario titolo di una serie di reati, tra i quali l'omicidio del 24enne Michele Walter Rafaschieri e del tentato omicidio del fratello Francesco Alessandro, di 34 anni. Il blitz arriva a seguito di un'indagine coordinata dalla direzione distrettuale antimafia che ha permesso di fare luce sull'episodio criminoso avvenuto a carbonare il 24 settembre 2018. In quell'occasione i due fratelli, figli del boss del rione Madonnella Vincenzo Rafaschieri, ucciso in una sparatoria nel 1994, furono raggiunti da una raffica di colpi di arma da fuoco mentre si trovavano a bordo di una moto. L'attività investigativa, portata avanti dagli agenti della squadra mobile di Bari, ha permesso di risalire a mandanti, autori e fiancheggiatori dell'agguato consumatosi nell'ambito della guerra tra i clan Parisi-Palermiti e Strisciuglio, scoppiata tra il 2017 e il 2018, per il controllo dei traffici di droghe in alcuni quartieri del capoluogo. Ideatori ed esecutori dell'azione criminale, in base a quanto emerso nel corso delle indagini, furono Giovanni Palermiti e Filippo Mineccia, ma alle fasi di pianificazione parteciparono attivamente anche Michele Ruggeri e Riccardo Campanale, che fornirono le armi, Gianfranco Catalano, col compito di segnalare ai killer l'arrivo delle vittime, e poi Domenico Lavermicocca, il quale, nelle fasi immediatamente successivi all'omicidio, si adoperò per disperdere ogni traccia che potesse ricondurre agli autori dell'agguato. Tra gli indagati figura anche il comandante della Polizia Municipale di San Michele di Bari, Domenico d'Arcangelo, accusato di aver aiutato Palermiti a costruirsi un alibi, inducendo una sua agente a redigere un falso verbale di violazione al codice della strada, per attestare la presenza del killer a San Michele, il giorno e l'ora del delitto. Tutto questo in cambio di soldi e di un telefonino del valore di 800 euro. Sono stati raggiunti dal provvedimento cautelare anche due esponenti storici del clan, Giovanni Mastrorilli e Francesco Trigiani, ai quali è stato contestato il porto e la detenzione di armi da fuoco. Le prove raccolte nei confronti degli indagati sono state rafforzate dalle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia, Domenico Milella, anche lui tra i responsabili dell'agguato, costato la vita ad uno dei due fratelli Raffaschieri. L'altro, seppur raggiunto da un colpo esploso da distanza ravvicinata, riuscì a sopravvivere, ma restò paralizzato alle gambe.